E' uguale. Capitano di Bascello, Pete Maverick Mitchell. Le parlerò apertamente. Lei non è la mia prima scelta. E' qui indietro richiesta dell'ammiraglio Kasansky. Anche detto Iceman. Secondo lui lei ha ancora qualcosa da dare alla marina. Che cosa non lo immagino. Con tutto il rispetto, signore, non sono un insegnante. Non vorrei creare aspettative. Buongiorno, avviatori. E' il capitano che vi parla. E si parte. Ci siamo. Meno tre. Due. Uno. Andiamo in combattimento. A un livello che nessun pilota ha mai visto. Nemmeno lui. se lassù pensi sei morto. Credimi. Mio padre credeva in lei. Non commetterò lo stesso errore. Qualcuno non tornerà vivo. Sono i tuoi piloti. se gli accadessi qualcosa. Fumo le laia! Fumo le laia! Non te lo perdoneresti mai. Non si torna più indietro. Andiamo! Oddio! Che c'è? Non ti diverti? No! Non ti Grazie a tutti.